Avevo un buon lavoro, poi l'ho perso e il mutuo è andato in sofferenza. La mia casa è andata all'asta, i miei genitori mi aiutavano, ma riuscivamo a malapena a sopravvivere. Lavoravo con mio marito presso una nota azienda. Percepivamo due buoni stipendi che ci consentirono di accendere un debito con due finanziari di 50.000 euro per acquistare l'auto e ristrutturare casa. Poi, quell'azienda è fallita. Cominciai a giocare con i colleghi, facevo sistemi e poi sono entrata nel tunnel del gioco online. Con dieci rate di mutuo non pagate, rischiavo di perdere la casa. Non perderai la casa. Siamo nelle condizioni di aiutarti e lo faremo.